Fermo al Fermano, fermo provincia... Il messaggio al Fermano, il messaggio al Fermano. Stiamo facendo un giro in tutta Italia, provincia per provincia, in questo caso a Fermo, Porto San Giorgio, per affermare un elemento di speranza, cioè che il nostro territorio, che vive peraltro una situazione di difficoltà economica come quella che conosciamo, le crisi complessive che conosciamo, ma però tutte le carte in regola per poter guardare al futuro con un atteggiamento di ottimismo. Ecco perché, girando in camper, con un viaggio che non è soltanto una metafora, ma è un'esperienza concreta fisica, cerchiamo di ascoltare le voci del territorio e soprattutto di gustare la bellezza dei luoghi. essere oggi qua in una realtà significativa come Porto San Giorgio, accompagnato dalla presenza di alcuni sindaci rilevanti del territorio, ci porta a dire che questo viaggio in Italia è un'ulteriore dimostrazione del fatto che l'Italia ce la farà.